Ragazzi benvenuti, qui è Carlos Matrone, vi dico già grazie subito immediatamente che state guardando sto video quest'oggi per presentarvi il mio ultimo acquisto, in realtà non è il mio ultimo acquisto perché mi è arrivata una tanda ma queste qua sono speciali perché queste qua vengono direttamente da New York, prese a Union Square, da Fight Club che stavano sulla quattordicesima, adesso vi faccio vedere delle immagini, queste immagini che state vedendo in questo momento sono state girate col telefonino all'interno dello store, non ci permettevano di fare riprese, quindi di conseguenza le ho dovute fare a stramacchio come potete ben vedere le scarpe vengono proprio da Fight Club New York, questo grandissimo store, importantissimo in tutto il mondo molto molto famoso, ma bando alle ciance, andiamo avanti ed ecco a voi la scatola, come si presenta, questa poi tra l'altro voglio dire voglio questa questa busta per me è reliquia, è quasi importante come la scatola stessa la scatola, la scatola vabbè si presenta normale come si presentano adesso tutte le scatole Jordan in questo caso con il Jumpman e la scritta in bianco con queste goccioline che si presentano sulla scatola e così via dicendo, ragazzi mi raccomando se vi capita una fake tra le mani la prima cosa che dovete andare a vedere è proprio la scatola, le dimensioni, la qualità, i vari stampini se sono quelle che vengono direttamente dagli Stati Uniti oppure se sono quelle là europee che hanno il numero sotto europeo bla bla bla, bando alle ciance, andiamo a fare un rapido unboxing, non è che dobbiamo fare l'unboxing che non ci interessa più di tanto vi devo far vedere la scarpa e soprattutto vi devo far vedere dopo come sta al piede scatola come vi dicevo interamente rossa all'interno, bella, io per portarla ho dovuto smontarla metterla in valigia e poi rimontarla, vabbè andiamo a vedere la Red Sement, richiama molto le Fire Red, richiama molto come colore le Fire Red perché in realtà sono proprio a colore invertiti classico Jumpman dietro, poi che cosa ho all'interno? vabbè lo scontrino, non vi sto a dire quanto le ho pagate io a New York adesso sono salite di prezzo, queste qua venivano rilasciate a un prezzo di 210 euro, giù di lì e adesso non le trovate a meno di 400 euro qui in Italia io le ho pagate esattamente 363 dollari che con le tasse, sta qua lo scontrino che con le tasse va a fare 3,95, intorno ai 370 euro ma avevo voglia proprio di spendere a questo Fight Club, è un negozio che ho sempre visto su internet avevo tantissima voglia di vedere queste scarpe, quindi di prenderle là e quindi le ho prese, pazienza, va bene così le scatoliamo, le tiriamo fuori dalla scatola vabbè, classico, ragazzi, un'altra cosa molto importante le Jordan vengono rilasciate sempre con due fogli per vedere se sono fake, bla 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 solite cose, mettiamo via la scatola e prendiamo le scarpe ok, partiamo dalla qualità delle scarpe la qualità è... sono pelle hanno un po' di profumo di gomma, vabbè, naturalmente, insomma è una qualità abbastanza buona e sono pelle plastica, non so, va benissimo vabbè, nel dettaglio, classico Jordan al contrario la scarpa come si presenta, ragazzi se voi avete presente una Fire Red è esattamente la colorazione al contrario esattamente al contrario alle spalle ovviamente troviamo il Jumpman e non la scritta Nike con Air sotto a me piacciono tantissimo io quando sono andato allo store, ragazzi un po' sapevo che doveva uscire una nuova Jordan un po' così c'avevo voglia di prendere questa colorazione qua non mi andava di spendere tantissimo per le Fire Red perché comunque le Fire Red avendo una storia alle spalle diciamoci la verità sono molto più costose ma vi dico la verità da un certo punto di vista non riesco a farne a meno prima o poi le prenderò più prima che poi oggi vi presento queste in questi giorni vi presenterò anche le Thunder che comunque sono uscite già da un pochettino di tempo andiamo nel dettaglio non ci perdiamo a chiacchiere ma sto perdendo a chiacchiere questa cosa non va bene per voi che mi guardate vi annoiate cambiate canale e non mi mettete nei like e non vi iscrivete al canale e poi ci rimango malissimo benissimo andiamo la suola la suola la troviamo con colori cemento parte bianca rossa è nera la tomaia la tomaia fatta bene la qualità è ottima plastica pelle non lo riesco ancora a capire e tutti i rilievi con le alette sono di una gomma la solita gomma che si utilizza per queste Jordan che è questa gomma che mi piace pure il profumo e quant'altro come la si può abbinare questa shoes come la si può abbinare questa shoes adesso vi faccio vedere come la abbino io io la abbino con questo pantalone beige perché mi va così di abbinarla con questo pantalone beige mi va di tenerla proprio ecco in questo caso con un contrasto di colore la scarpa a differenza delle altre Jordan calza un pochettino più comoda nel senso che le Jordan hanno una vestibilità molto 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 stretta e quindi di conseguenza io che sono un 42 sto iniziando ad acquistarle 42 e mezzo quindi quel mezzo numero in più che ti permette di non lo so metterci un safe all'interno e cose del genere per non andare a rovinarla nelle pieghe difficile insomma perché comunque una scarpa che se viene utilizzata nell'andare avanti col tempo un po' si rovinerà che cosa non mi è piaciuto di questa release che potevano mettere un laccio in più all'interno nelle altre Jordan ho trovato qualche volta qualche laccio in più qualche cosa in più in questa qua ci hanno messo sto laccio bianco punta e basta cioè magari mettere un rosso così come nelle Thunder magari ecco a metterci un laccio giallo giù di lì poteva essere una cosa bellina quindi vi stavo dicendo del numero questa qua quando sono andato a provarla quando la provavo potete vedere adesso nelle immagini che stanno scorrendo che queste sono sempre le immagini che ho fatte a stramacchio col telefonino a Fight Club perché non ti permettono di assolutamente riprendere ho notato che la scarpa andava già col 42 andava già comoda di per sé quindi di conseguenza ho deciso di tenerla 42 e basta ma le altre Jordan le sto acquistando 42 e mezzo quindi mezzo numero in più la provenienza di queste scarpe come vi ho già anticipato è da New York esattamente Fight Club sulla quattordicesima Union Square se vi trovate là e volete andare a dare un'occhiata il negozio si trova proprio a Union Square basta mettere il navigatore vi trovate subito sul posto è a due minuti dalla metropolitana dalla Subway ragazzi ovviamente io non sto qui a farvi le lezioni di come si perché secondo me io sono l'ultimo arrivato in questo mondo delle sneakers mi piacciono tanto il mio canale si occupa Romai di tutto si occupa davvero 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 di tutto ma principalmente io sono un artista come le utilizzerei le utilizzerei per le grandi occasioni perché per me questa è una scarpa da grandi occasioni non è una scarpa da tutti i giorni perché spendere tanti soldi e utilizzarle così tutti i giorni diventa deleterio però allo stesso tempo non è che poi devono prendere polvere sullo scaffale o nel caso mio sulla mensole che qua ci sono Jordan di tutti i tipi non è una collezione vastissima ma comunque ci sono scarpe di tutti i tipi va bene così ho una passione smisurata e particolare per le Jordan 1 e le Jordan 4 molto di più per le Jordan 4 ultimamente mi stanno andando proprio in testa bene Wayu che vi devo dire la scarpa si presenta bella bellissima è una Fire Red al contrario con i colori invertiti prima o poi a casa mia arriverà anche la Fire Red assolutamente sì ci tengo tantissimo io vi ricordo di lasciare un like di commentare ditemi voi che cosa ne pensate se l'avete acquistata se è in vostro possesso e se sì che cosa ne pensate assolutamente se non vi è piaciuto il video ditelo Carlos fai dei video di merda va bene non fa niente ma contento allo stesso tempo se invece vi è piaciuto il video voi scrivete sotto i commenti dici Carlos questi video che fai sono bellini trallalero trallalala andate a seguire la mia musica andate a seguire i miei blog andate a vedere il mio lavoro artistico perché sul canale sul canale trovate assolutamente di tutto niente io vi saluto la scarpa ve l'ho fatta vedere la scatola ve l'ho fatta vedere ci vediamo in un prossimo video dove vi presenterò una nuova sneakers che poi non è una nuova sneakers la potete già vedere alle spalle già c'è vi presenterò le thunder Carlos come hai cominciato da quella che è uscita dopo e poi ritorni su quella che è sì quella mi è arrivata dopo vabbè comunque raga sostenetemi mettete like se non l'avete già fatto iscrivetevi attivate la campanella e niente seguitemi anche sui social carlos matrone c'è scritto là sotto su instagram dove volete io sto un po' da per tutto tic toc non è che lo utilizzo più di tanto ma sto pure su tic toc va bene peace and love